Sold out in poche ore dall'inizio della prevendita. La sera di giovedì 28 settembre alle 21 sarà proiettato nelle tre sale della multisala Badia Grande in contemporanea e in premiere il film di Michela Scolari dal titolo Sciacca un sogno fatto in Sicilia. Film girato qui con centinaia di comparse locali. La vertigo SRL di Sino Caracappa che gestisce la multisala Badia Grande ha già istituito un secondo spettacolo sempre per la sera del 28 di settembre alle 22.45 subito dopo quello delle 21. Si prevede un'ulteriore concentrazione di prenotazioni. In ogni caso nei giorni successivi il film continuerà ad essere disponibile in proiezione alla multisala dunque ci si potrà prenotare anche per le giornate a venire. La prenotazione è possibile sul sito 2Tickets. Per il link vi rimandiamo al nostro sito rmk.it, un film che è dunque un autentico fenomeno di costume nella città di Sciacca che 60 anni dopo seduta e abbandonata, 75 anni dopo in nome della legge, i due capolavori di Pietro Germi, è tornata ad essere set naturale di un lungometraggio. La storia è sentimentale ed è rivolta essenzialmente al mercato statunitense ma naturalmente anche a quello italiano. Per le riprese anche con l'ausilio del gruppo Mangia di Sciacca Mare la produzione ha selezionato numerose comparse generando così un forte entusiasmo. Il film viene proiettato a Sciacca come prima nazionale. La premiere di giovedì 28 settembre sarà preceduta da una conferenza stampa in programma domani mattina alle 10.30 nell'hotel Torre del Barone alla presenza dei produttori, regista della parte saccienza della produzione e della distribuzione nelle persone di Elena Costa e di Sino Caracappa.